Ma cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno, non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Questa doveva essere l'edizione dell'inclusione, della condivisione e invece abbiamo solo assistito a un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia. Sappiate che siamo tutti indignati. Nelle prime puntate abbiamo conosciuto Eleanor Ferruzzi, la sua battaglia per essere stata discriminata. Ecco, lei avrebbe dovuto comprendere il dolore di Marco e invece gli ha detto vai alla neuro deliri, gli ha dato del disadattato e poi abbiamo conosciuto anche la storia di Ciacci, sono anche stata ospite giovedì nel programma per dargli supporto e alla notizia che Marco aveva abbandonato il gioco è riuscito persino a dire ce lo siamo levati dai coglioni. Ma com'è possibile? Giovanni. Carolina Marconi, un'amica che mi ha dato consigli prima di entrare nella casa del GF. Ecco, da donna che ha combattuto contro il tumore al seno, che conosce il dolore, ecco, mai mi sarei aspettata una battuta come tu sei patetico, riferito a Marco. Giovanni, Carolina, ma secondo voi esistono malattie di serie A e malattie di serie B? Ho dolore di serie A e dolore di serie B? Vilma Goic, che dice sei la causa dei tuoi mali, ma vi rendete conto della gravità delle vostre parole? Ginevra, tu che hai detto si merita di essere bullizzato, nessuno si merita di essere bullizzato e persino Patrizia e Gegia mi hanno stupito per quanto sono state insensibili. In questa casa, tranne due o tre che hanno dato frasi di conforto a Marco, ecco, per il resto tutti siete stati complici, tutti siete stati fautori di questo allontanamento e la cosa più vergognosa è che quando l'avete salutato con, uh, ci mancherai tanto, tutti abbiamo capito quanto falsi siete. A voi non mancherà, ma per il pubblico sì e per il pubblico Marco Bellavia è l'unico vero vincitore di questa edizione. Prima di lasciarti al video, lascia un mi piace ed iscriviti al canale. Oggi pomeriggio Adriana Volpe ha lanciato un messaggio di solidarietà per Marco Bellavia, concorrente del GF e Vip che ha abbandonato sabato la casa del GF. Lei ha manifestato il suo disprezzo nel confronto di persone che si sono comportate male nella casa e tra poco vedrete il video. Sonia Bruganelli è subito intervenuta sui social a screditare il video della sua rivale in tv, dandole della falsa menefreghista. Cosa ne pensate?